Niente discorso annuale sullo Stato dell'Unione, almeno finché la faccenda dello shutdown sul bilancio federale non sarà risolta. E' la risposta di Trump all'idea della Presidente della Camera dei Rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi, di sospendere il tradizionale discorso del Presidente della Nazione proprio per le ben note divergenze di bilancio tra repubblicani e democratici. Lo ha annunciato lo stesso Donald Trump con un tweet notturno in cui ammette che bloccare il discorso è una prerogativa del Presidente del Congresso. Il Presidente spiega inoltre di non avere intenzione di pronunciare l'allocuzione in altre sedi se non al Congresso stesso. Al di là delle diatribe protocollari, lo shutdown, il blocco di bilancio, priva buona parte dell'amministrazione federale dei finanziamenti necessari. Ben 800.000 impiegati statali sono rimasti temporaneamente senza lavoro, mentre gli addetti ai servizi essenziali, come ad esempio gli aeroporti, sono costretti a lavorare senza stipendio. Questo venerdì, la prossima settimana, sarà la seconda volta che non verranno pagati, che non riceveranno uno stipendio e la faccenda è sempre più grave, amico. E ogni giorno qui, sulla pista di Houston, 350 impiegati aeroportuali ricevono cibo gratis da un'associazione in attesa che tutto riparta. È lo scontro sul finanziamento del muro col Messico che blocca tutto, chissà fino a quando, quindi, dato che le parti sembrano inconciliabili.